gentili telespettatori buona giornata andrea crisanti viene candidato dal pd ha subito uno scontro con salvini perché salvini commenta l'entrata di crisanti in politica nel pd dicendo che allora lì ha dei sospetti che tutto torna e ovviamente quello poi gli ha risposto per le rime non se le fatte raccontare a senso unico però non parliamo della della lite salvini e crisanti che non ha fatto nient'altro che far pubblicità crisanti che entrava nel pd ecco l'attacco di salvini a crisanti ha fatto solo pubblicità crisanti al pd però qui parliamo di un'altra cosa perché questo 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 non so se è un medico un medico credo sia un medico e dice che nel caso occorrerà studiare nuove restrizioni se il covid tornerà aggressivo beh i dati di oggi comunque in pieno caldo a 46 gradi i dati sono comunque sempre alti se guardate sono sempre alti naturalmente con l'inverno ci sarà un aumento dei casi un aumento delle ospedalizzazioni ovviamente la stagione fredda e lui dice il andrea crisanti virologo fresco di candidatura col pd quindi virologo pertanto è un medico o forse no l'infettivologo è un medico il virologo non lo è beh guardate non lo so bisognerebbe chiedere a speranza che lui è un esperto con la sua laurea in scienze politiche un esperto in settore sanità ecco crisanti dice beh se la situazione o il covid dovesse tornare aggressivo bisogna studiare nuove restrizioni restrizioni stai a casa non uscire metti la mascherina non andare di qui se vai al lavoro devi avere il green pass devi dimostrare specificare io spero vivamente che la storia del green pass sia definitivamente chiusa lo spero veramente anche perché dovrò muovermi ad aprile e non vorrei avere problemi con green pass certificazioni insomma a questo punto confido che se dovesse vincere un governo di centrodestra un partito di centrodestra fare un governo di centrodestra confido che non si parli più di restrizioni certificati green pass super green pass green pass rafforzato vi ricordate no tutte le varianti del green pass ogni variante c'era una variante anche del green pass bene ricordatevi che secondo queste dichiarazioni che dice crisà quello quello che dice crisanti occorrerà studiare nuove restrizioni se il covid torna aggressivo se dovesse vincere il pd o comunque pd assieme a cinque stelle calende tutti quanti dovessero per caso vincere ricordatevi che ci troveremmo di nuovo robbi speranza al ministero della salute che a ottobre ci farebbe di nuovo reintrodurre il green pass credo io e ci troveremmo comunque questo crisanti che magari è diventerebbe sottosegretario alla salute chi lo sa delle belle accoppiate che potrebbero rimettere delle vere e proprie restrizioni agli italiani che poi abbiamo visto che in realtà sono servite in modo simbolico non hanno portato realmente quasi a nessun beneficio queste restrizioni no ecco e questo è la prospettiva ecco se dovesse vincere la sinistra ci troveremmo crisanti e speranza al ministero della salute con le loro restrizioni ma crisanti dovrebbe correre per un collegio europeo visto che lui dice di aver passato oltre 30 anni all'estero per lavorare beh diciamo che crisanti fin dall'inizio dal marzo 2020 nelle sue apparizioni tv ha sempre detto queste cose diciamo ha sempre tenuto una linea che da molti viene definita rigorista ecco che non vuol dire che deve tirare i rigori mondiali rigorista da rigore una linea di rigore rigorista forse non è propriamente un termine azzeccato il rigorista ma non ho cercato bene sul vocabolario alla voce rigorista se viene fuori che è quello che tira i rigori o è quello che è rigido proviamo a vedere rigorista definizione vediamo che cosa viene fuori persona intransigente sul piano morale intellettuale oppure nel linguaggio sportivo il giocatore specialista nel battere la massima punizione il rigore quindi il rigorista è intransigente sul piano morale o intellettuale o quello che tira i rigori ma il rigorista in questo caso cioè mettere le restrizioni non significa essere intransigente sul piano morale o intellettuale perché essere intransigente sul piano morale intellettuale vuol dire essere fermi su una su una questione morale o intellettuale mettere le restrizioni non mi sembra una questione intellettuale ecco pertanto forse la parola rigorista è stata un po usata a cavolo è a cavolo però insomma sapete che la grammatica italiana si trasforma ogni anno si riunisce l'accademia della crusca per vedere le parole che entrano nel dizionario le parole che escono gli inglesismi francesismi che entrano e parole nuove come lockdown è una parola che è entrata nel vocabolario comune italiano la mascherina adesso ormai la mascherina che prima poteva essere la mascherina di carnevale sapete quelle di plastica con l'elastico no ricordi di un tempo quindi cambiano anche molte parole che assumono dei significati principali diversi prima mascherina il significato principale erano le mascherine di carnevale oggi col termine mascherina il significato principale sono quelle che abbiamo messo per la pandemia no la ffp2 la chirurgica che realmente prima di questo covid nessuno sapeva che era la mascherina chirurgica ah sì quella delle sale operatorie no ma la mascherina ffp2 non la conosceva nessuno neanche chi la produceva ecco bene su questo come vi stavo dicendo come vi stavo dicendo che vi stavo dicendo su su crisanti che realmente se per caso il pd dovesse vincere le elezioni avremmo un bel un bel inverno di fronte infatti salvini scrive ma ve li immaginate questi due al governo aveva provocato proprio salvini mettendo una foto di roberto speranza e crisanti come dire ve li immaginate questi due al governo beh caro salvini quando speranza era al governo anche tu eri al governo quindi no insomma vi immaginate speranza e crisanti al governo tu sei stato al governo con speranza e hai firmato tutte tutte le cose che speranza e draghi hanno voluto introdurre quindi caro caro mio salvini tu hai firmato green pass obblighi e terze dosi hai firmato gli obblighi per certe categorie nei fatte tante quindi naturalmente qual è la leva di salvini è che gli italiani non si ricordano passano due tre mesi e si sono già dimenticati gli racconti due frottole gli dici che fai la flat tax che alzi le pensioni minime e che fermi quelli lì basta l'italiano medio si è già dimenticato tutto no e allora asfaltiamo il tevere così se scorre a roma se scorre col pensiero va bene arrivederci a tutti e grazie